Qual è la prima cosa che farà se fosse eletta a sindaco Cecilia Francesa? Da un punto di vista organizzativo sicuramente bisognerà mettere mano alla organizzazione della macchina amministrativa, bisognerà mettere mano al bilancio. Noi abbiamo un deficit di 25 milioni di euro, forse di più, dobbiamo fare in modo di dare sviluppo a questa città, quindi fare in modo che la sana imprenditoria torni a investire, quindi dare la certezza del diritto, dire che questa battivaglia cambia volto, si libera della vecchia politica, si libera dei climi ritorsivi, delle minacce, cioè battivaglia torna a vivere serenamente. Quindi bisognerà mettere mano tagli agli screchi, razionalizzare la spesa, organizzare uno staff di specialisti in modo da richiamare fondi, da utilizzare i fondi della Comunità Europea, del Ministero, fondi regionali, soprattutto progetti di finanza, attivare questo rapporto stretto tra la sana imprenditoria e l'amministrazione. Innanzitutto a battivaglia c'è da ricucire uno strappo antico e dagli anni 90 che non c'è un'aggiunta che concluda tutto il suo mandato. Bisogna recuperare la fiducia con i cittadini? Sicuramente la cosa che ho promesso ai cittadini è la trasparenza. Questo palazzo deve diventare un palazzo di vetro. E la prima cosa che faremo è le giunti aperte, l'avevamo detto già in Consiglio Comunale nel 2012, mozione bocciata, il garante della legalità che abbiamo annunciato, che è questa figura super partes, che sarebbe il garante della legalità e dei diritti dei cittadini. E poi mettere mano ai comitati di quartiere. L'avevamo dichiarato, istituzionalizzarli, lo statuto li prevede, bisogna solo approvare un regolamento che opereremo subito e con elezioni irregolari che magari abbineremo alle prossime elezioni che possono essere quelle politiche. È un modo di dialogare la periferia con il centro e soprattutto coinvolgere le periferie. Abbiamo sempre detto che il cittadino in periferia non si deve sentire marginato. Il cittadino in periferia è uguale a quello che abita in città. Io penso che c'è molto da lavorare, ma lavoreremo con le associazioni, bisogna creare una rete di solidarietà, lavoreremo con le parrocchie, insomma bisogna cambiare completamente pagina.